Quando si conclude un rapporto di lavoro, qualunque sia la ragione, il datore di lavoro deve svolgere due azioni obbligatorie con tempistiche precise. Comunicare la chiusura a IMSS entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto. La comunicazione può essere fatta al telefono o meglio tramite internet. Versamento dei contributi per l'ultimo periodo di lavoro entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto. Con la comunicazione unica a IMSS il datore di lavoro non deve fare altro perché automaticamente IMSS provvede a informare anche INAIL, Ministero del Lavoro e Prefettura. Non serve comunicare a IMSS la conclusione di un rapporto a tempo determinato. Serve solo se il lavoro termina in una data diversa da quella stabilita nel contratto.